E' stato riferito un cauto ottimismo, io direi una non cosciente delusione ma una mezza delusione. Arezzo-Roma andata in ritorno per il sindaco Alessandro Ghinelli che traccia un bilancio non particolarmente positivo dell'incontro presso il Ministero dell'Economia e della Finanza tra il Vice Ministro Morano ed una delegazione di sindaci della provincia di Arezzo. Sul tavolo ancora una volta le questioni legate a Banca Etruria, i rimborsi agli obbligazionisti, il futuro dell'Istituto di Credito Aretino ed il mantenimento dei livelli occupazionali. Grandi assicurazioni non ce le ha date. La più importante sulla quale si è sbilanciato senza però darci una data precisa è che avrebbe insistito sul Governo e soprattutto sul Ministro delle Finanze per abbreviare i termini per il varo del decreto che riesce a ristorare gli obbligazionisti subordinati. Cioè si è impegnato a far presto ma non ci ha dato una data. Sul processo di vendita della banca non ci ha dato grandi garanzie. Sostiene che se si mettono troppi paletti nella vendita della banca probabilmente manca un sufficiente numero di offerenti. Tra i vari paletti che noi avevamo chiesto di mettere c'era anche quello del mantenimento dei livelli occupazionali che per noi è il problema dei problemi perché nel nostro territorio ci sono complessivamente dipendenti per circa 1700 unità non vorremmo mai rischiare di avere 1700 famiglie in difficoltà. E diciamo un po' cambiando tema ha suggerito di mettere in piedi un tavolo insieme al Ministero, al Ministro dell'Agricoltura, al Ministro delle Finanze e forse anche quello del Sviluppo Economico, Regione Toscana e Comuni per provare a vedere se ci sono forme di finanziamento di un territorio che ha subito questo grosso depauperamento dal punto di vista economico e dal punto di vista finanziario. In occasione della trasferta romana il primo cittadino aretino ha consegnato al Vice Ministro Morando la lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, contenente alcune precise richieste in merito alla vicenda Banca Etruria. Preso ben volentieri la lettera per il Premier e mi ha detto che l'avrebbe consegnata personalmente quindi sono sicuro, d'altra parte comunque i parlamentari del territorio si erano impegnati a fare altrettanto quindi sono sicuro che Renzi leggerà questa lettera.